Potrebbe esserci un ulteriore passo avanti. Nell'indagini sull'omicidio avvenuto a Castelvetrano lo scorso 26 novembre del 33enne Vincenzo Favoroso, ex calciatore Ultras della Folgore Castelvetrano, per il delitto è stato arrestato Gaspare Favara. I carabinieri di Marsala hanno trovato due fucili a cannemozze, uno dei quali potrebbe essere l'arma di quell'omicidio. I militari dell'arma hanno trovato un fucile a cannemozze in una cavità del tronco di un ulivo vicino al luogo in cui fu ritrovato il corpo del 33enne. Le ricerche sono state estese anche nel letto del fiume Modione, dove i carabinieri, con il contributo del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Palermo, hanno trovato un'altra doppietta a cannemozze dentro un involucro ermetico di plastica. Le armi saranno sottoposte a esami balistici e per il rilevamento di eventuali tracce biologiche.